Salve a tutti, benvenuti a questa lezione su Ugo Foscolo. Oggi parleremo della prima opera veramente importante del nostro autore, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. In questa lezione daremo risposta alla domanda numero 6 che vedete qui. Quindi parleremo delle ultime lettere di Jacopo Ortis e spiegheremo come prima cosa a quale genere letterario appartiene l'opera. Ed ecco la risposta. L'Ortis è un romanzo epistolare. Che cosa vuol dire romanzo epistolare? Vuol dire un romanzo che però non viene raccontato in terza persona da un narratore esterno ma viene raccontato in prima persona dal protagonista ma attraverso le sue lettere. Cioè quello che noi vedremo saranno una serie di lettere scritte ovviamente a una finzione ma che si immagina essere state scritte dal protagonista Jacopo Ortis appunto e indirizzate a un suo amico Lorenzo Alderani. Eccolo qua l'amico di Ortis al quale sono indirizzate le lettere. Quindi il romanzo in realtà è composto da una serie di lettere che ci raccontano gli avvenimenti accaduti a Jacopo Ortis e ce ne raccontano in prima persona. Insieme alle lettere abbiamo anche una nota introduttiva indirizzata al lettore che è firmata da Lorenzo Alderani questo amico di Ortis che ha ricevuto le lettere e che dopo il suicidio di Jacopo perché purtroppo questa storia non andrà a finire bene Jacopo si ucciderà ha raccolto le lettere ricevute da questo suo amico e le pubblica affinché Jacopo il suo amico questo uomo così virtuoso questo eroe silenzioso non venga non venga dimenticato le raccoglie le pubblica come dice Lorenzo appunto nella nota introduttiva al lettore per erigere un monumento alla virtù sconosciuta. Vuole far ricordare quindi e far conoscere il valore di questo suo amico che altrimenti verrebbe completamente dimenticato. Ora voi capite che anche se l'Ortis è un romanzo epistolare non tutto il romanzo può essere formato dal lettere come fa infatti Jacopo a descriverci il proprio suicidio non è possibile e infatti la fine dopo l'ultima lettera di Jacopo quella del 2 giugno 1798 sarà Lorenzo a descriverci con dei brevi resoconti quello che è successo dopo quello che non viene raccontato dalle lettere di Jacopo e quindi il suicidio ci verrà descritto proprio da Lorenzo. Torniamo alla nostra domanda guida rispondiamo adesso a quest'altro piccolo pezzo della domanda quando è stata pubblicata l'opera qual è il modello cui Foscolo si è ispirato nello scriverla e quali sono i punti di contatto e le differenze tra le due opere. La storia editoriale delle ultime lettere di Jacopo Ortis è abbastanza complessa infatti il romanzo venne stampato per la prima volta a Bologna nel 1798 ma in forma incompleta poi ci fu qualcuno che riprese questo romanzo incompleto però che aveva avuto un grande successo e che lo concluse a modo suo per cui Foscolo trovò il tempo di finirlo di risistemarlo e di pubblicarlo di nuovo nel 1802 a Milano quindi possiamo dire che la prima vera e propria pubblicazione in forma completa di quest'opera è del 1802 poi però l'opera venne ripresa da Foscolo è pubblicata di nuovo a Zurigo nel 1816 ed infine a Londra nel 1817 è quindi un romanzo che ha avuto molte edizioni. Per quanto riguarda l'opera che possiamo dire essere stato un po' il modello di Foscolo per scrivere appunto lo Jacopo Ortis bisogna andare in Germania infatti il modello a cui Foscolo si ispira è un romanzo di un grande scrittore tedesco appartenente anche allo Sturmundrang quindi un preromantico tedesco Goethe che nel 1774 ha pubblicato I dolori del giovane Werther questo appunto è il titolo del romanzo che ha fatto da modello allo Jacopo Ortis. Quali sono i punti di contatto e le differenze tra le due opere? Cominciamo dai punti di contatto Foscolo del modello tedesco riprende non soltanto le linee essenziali dell'intreccio ossia la vicenda di questo giovane che si suicida per amore ma ne riprende anche il nucleo tematico centrale che è costituito da un conflitto il conflitto tra l'intellettuale e il contesto storico contemporaneo ecco questo è il nucleo centrale che viene ripreso appunto da Foscolo e che deriva dai dolori del giovane Werther però c'è anche una differenza una differenza sostanziale tra i due romanzi tale differenza consiste nel fatto che il conflitto tra l'intellettuale e la società nel Werther è semplicemente un conflitto privato che si esaurisce nel rapporto personale poiché nel Werther il protagonista si scontra con i valori della borghesia e dell'aristocrazia cioè con le classi dominanti del tempo Werther è un artista che non riesce a trovare una collocazione a nessun livello della società perché perché è un essere umano con una sensibilità superiore ma siccome appartiene a una classe sociale inferiore questa sua superiorità non viene riconosciuta e quindi lui si sente al disagio con la classe sociale di provenienza perché appunto si sente diverso rispetto al persone non colte della sua classe sociale di provenienza ma si sente anche diverso e non viene accettato dalle classi sociali al potere cioè dalla borghesia e dall'aristocrazia. Jacopo invece ha un rapporto un conflitto diverso ecco con la società perché nell'ortis questo conflitto si trasferisce su un piano essenzialmente politico. Egli Jacopo dico è un giovane patriota è un giovane italiano che vuole l'unità d'italia e quindi percepisce come dire un senso di sradicamento rispetto al suo tempo perché l'italia nel suo tempo non esiste lui vorrebbe fare l'italia ma l'italia non esiste. Sento questa mancanza di una patria e di un assetto politico dentro cui inserirsi gli ideali rivoluzionari che erano stati portati avanti le speranze ecco rivoluzionari che erano state portate avanti da napoleone quando napoleone scese in italia nel 1776 purtroppo erano falliti e quindi por per Jacopo non c'è un modo per adattarsi a questa società che lui disprezza. Torniamo alla nostra domanda guida e rispondiamo adesso a questa parte quali problemi raccontati nell'ortis si ponevano alle giovani generazioni dell'età napoleonica. Ecco possiamo dire che Foscolo riesca a cogliere acutamente i problemi che si ponevano alle giovani generazioni italiane della sua epoca dell'età napoleonica. Infatti lo scrittore racconta proprio questo la loro delusione nel vedere tradite tutte le loro speranze patriottiche democratiche nel vedere questa libertà promessa dalla rivoluzione francese trasformarsi in realtà in tirannide sì perché i francesi avevano cacciato gli austriaci dall'italia ma non per lasciare l'italia libera di autogestirsi bensì per trasformarla in un territorio di conquista. Andiamo alla parte finale della nostra domanda e vediamo brevemente come si costruisce il racconto nelle ultime lettere e poi una breve illustrazione della trama. Su come si costruisce il racconto sarò molto breve perché ne abbiamo già parlato abbiamo detto che sono una serie di lettere che il protagonista indirizza l'amico Lorenzo Alderani ma che sono anche inframmezzati a dereso conti scritti dall'amico stesso. Andiamo a vederci proprio la storia, la trama dell'opera. Il romanzo inizia da una data ben precisa, il 1797, la data del trattato di Campoformio con il quale Napoleone aveva concesso Venezia all'Austria e Jacopo esprime nella sua prima lettera tutta l'indignazione che prova per questo trattato, per questo tradimento del generale francese e poi racconta la sua fuga presso i colli Euganei vicino a Venezia, un luogo bellissimo che ancora oggi è Parco Nazionale e lì incontra e si innamora di Teresa, una giovane ragazza che però è già fidanzata e sta per sposarsi con un giovane aristocratico però una persona molto mediocre, Odoacre è una persona priva di grandi qualità, priva di ogni sensibilità. Jacopo quindi perde ogni speranza di vedere realizzati i suoi desideri sia in campo amoroso sia in campo politico e comincia quindi a viaggiare per l'Italia ma a un certo punto viene raggiunto dalla notizia del matrimonio di Teresa e sceglie di darsi la morte, quindi la trama come vedete è molto semplice. La narrazione come abbiamo visto prende l'avvio da una situazione sconfortante, approda ad una conclusione del tutto negativa e pessimistica, comunque nonostante questo nelle pagine del romanzo troviamo una continua ricerca di valori positivi, la ricerca della famiglia, degli affetti ma anche la sottolineatura di quanto sia importante e valida la tradizione culturale italiana. A un certo punto Foscolo incontrerà Parini e quindi insomma ci farà capire quanto importante sia e sia stata la letteratura all'interno della nostra società. Quindi ecco nonostante questa negatività totale dall'inizio alla fine c'è comunque sempre una ricerca di un qualcosa di positivo. È quando Jacopo scoprirà, capirà ecco di non aver più nessuna speranza e nessun campo, non riesce ad ottenere quello che vuole in campo amoroso né in campo politico né tantomeno in campo poetico perché si accorge di non poter neanche essere un gran poeta. È solo a questo punto che Jacopo si arrende e si uccide. L'opera ha un grande merito, il merito di aver introdotto nel contesto italiano il modello del romanzo moderno, anche se lo stile è sempre italiano, è sempre tradizionale, è sempre caratterizzato da una tendenza molto italiana all'aulico, al sublime, al nobile, al difficile. Infatti Foscolo all'interno di questo romanzo fa un intenso uso dei procedimenti retorici, delle figure retoriche, la sintassi è complessa e questo rende un po' difficile la lettura integrale dell'opera. Bene, con questo io ho concluso, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.